eccoli quei fratellini bubu e yogi monellissimi quanto hanno cinque mesi e mezzo adesso sono nati cinque mesi fa sei mesi fa fine marzo ricordo io 25 marzo adesso devo andare a casa per guardare la data di nascita della sorellina adottata sì sono cinque mesi fatevi vedere yogi affettuosissimo non volete uscire con la mamma no mi ha leccato la telecamera vediamo e bubu è diffidente ehi monellini piccolini yogi è buono è un bassotto tipo bassotto volpino yogi invece bubu è più volpino yogi vieni qui un coi ovi dei bacini il bubu ha paura vieni ciao piccolini